Attenzione, a me gli occhi sono Richard Gale, sono Lino Banffi, lo sapete, però vi voglio parlare di cose serie. Ogni 20 secondi muore un bambino per cause che si possono prevenire con un bacino. Ogni 20 secondi deve suonare un campanello d'allarme. Per questo do il 100% del mio sostegno all'Unicef, perché il 100% dei bambini venga vaccinato. Sono convinto che insieme possiamo raggiungere ogni bambino. Ti aspettiamo il 24 e il 25 maggio per suonare insieme questo allarme. Il tuo aiuto fa la differenza per la vita di questi bambini. Grazie.